Salve a tutti ragazzi, scusate ho avuto problemi di connessione, ho cominciato 3-4 minuti fa ma chi ha il telefonino a mano mi ha detto che non ero in diretta, credo che adesso ci sono stavo dicendo, vi ripeto ovviamente perché è come se non avessi detto nulla il lavoro di oggi è il circuit training, il 3V barra 5 che cosa succede ragazzi, ve lo spiego, andiamo a fare dei lavori in stazione e dei lavori che di solito vengono fatti abbinati alla corsa, quindi le espressioni in corsa, non potendo correre perché siamo dentro casa, andiamo ad usare dei lavori proprio sul posto, quindi andiamo a saltellare tra virgolette scenando la corsa e quindi andiamo ad eseguire le espressioni che vi chiedo, quindi sarò breve breve coincisa, scusate il ritardo, ripeto è stato un problema di connessione, quello di cui abbiamo bisogno è una mazza che sia quella della scopa o della paletta e una bottiglietta d'acqua che usiamo come peso, l'ho fatta usare anche martedì per chi mi segue, io ci sono il martedì e il giovedì alle 20, sarò in diretta su facebook e o instagram, mi alterno una settimana una settimana, è importante questo per chi non ha, per chi mi vuole seguire, mi alterno tra instagram e facebook, quindi parto subito con 4 minuti di riscaldamento e poi cominciamo il nostro circuito, ok, facciamo un bel respiro, tutto ok rigido, tutto ok, pronto, rimani su, scendi con quelle scavole, chiudile, una molletta no, centro, spingile, chiudile, spingi, scendi, questo eh, guarda le mie mani, guarda i miei polsi, piano, solo il gesto, occhio raga eh, abbina i due gesti, che sono questi, i due movimenti, lo facciamo più veloce, 4, 3, 2, 1, allarga le braccia, vieni qua, muoiti, alterna, seguimi eh, il nostro programma è sempre ed efficace, adatto a tutti eh, provaci, bene avanti, ci sono, ben dietro, fermati, con l'altro braccio uguale, fermati, ben avanti, stop, ben dietro, stop, ben dietro, stop, rilassa le braccia, porta le giù, concentriamoci sulle gambe, ok, il lavoro di oggi, si alternano, qui, qui, stop, fati, boh, girati, scavole adotte raga, mi raccomando con i gesti, non ti buttare in avanti, qui, girati, l'ultimo, torna in avanti, centrale, unisci un poco di più le gambe, se sei troppo distante, appoggiare le mani alle ginocchia e scendi, aiutati no? occhio, dobbiamo appoggiare i gomiti sulle nostre ginocchia, eh, questo, ok, guarda i miei polpacci, si alternano, oh, oh, prova a rimanere su con tutti e due i piedi, no? provaci, tremano un po', tremano anche a me, normale, scendi giù, appoggia le mani sulle te ginocchia, devi tornare te, ginocchia, lati, eh, devi tornare da solo, da sola, vieni qua, fai un bel respiro, io alzo pochettino, pochettino il volume, eh, poco, 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 prendi la tua mancia, ok, lo stacco, scavole adotte o un bellico retratto, due tempi, e, oh, Giulia, ok, raga, si, non stai con i peci, eh, rimani giù, scavole adotte o un bellico retratto, spaglia, tre, due, uno, torna, lo dobbiamo rifare, tre, due, uno, preparati, sei pronta? pronto? finici, tre, due, uno, sempre due, si, raga, il bilanciere, la tua massa devi stare attaccata fatto il corpo, eh, non lo allontanate, mi raccomando, è un orrore che si fa, eh si, 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 rimani giù, fermati, qui, 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 quattro, tre, due, uno, posa la mazza, chi ha la bottiglietta, chi ha il pesetto, la gamba sinistra avanti, la destra indietro, scendi, vieni qua, e, rematore, solo il braccio, solo il braccio, ok? solo il braccio, ok? guarda, fino alla gamba, ok? si, 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 vieni! 4, 3, 2, 1, cambio, solo il braccio, vieni! abbina, oh, 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 si, 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 ancora! 4, 3, 2, 1, stop, vieni qua, recupera, ok? ora, ancora sul posto, inseriamo la corsa, raga, non possiamo correre, quindi muoviti sul posto, muoviti sul posto, non possiamo correre, no? quindi ci muoviamo sul posto, quattro minuti, eh? occhio, raga, ok? piegamenti, questi, scendi, scendi, sì, sì, ancora! 4, 3, 2, alzati, ok? alzati, lo rifacciamo! chi ascolta lo sa, eh? ci riproviamo, raga, ne facciamo 16, ok? via! 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, stop! rimani! 3, 2, 1, sali! recupera! sul posto, skip, skip indietro, raga, ok? ci sei? dai, dai! dai, dai! stop! ce li facciamo a terra inizio pochi secondi e ci mettiamo a terra 4 3 2 1 3 2 1 stop fai un bel respiro recupera vieni asciugati vieni con me fai andare a prendere la marcia recupera secondo giro ok un tempo ci sei? ci siamo? ok andiamo raga stesso discorso stavo la tua pelicola e tratto struscia la struzza qui ci sei? 4 3 2 1 rimani 3 2 1 regula la tirata allarga leggermente le punta dei piedi parti da qua eh raga non allontanate il bilanciere no ok? ci sei? ci sei? lo provi un tempo veloce andiamo oh oh ci sei? che scapole via via sì sì ci siamo raga rimani sì 4 3 2 vieni torna giù lo dobbiamo ripare raga stacco andiamo andiamo sì vai vai bondellini con le trotte scapole adotte andiamo 8 7 6 5 4 3 2 rimani qui un po' di più ok? qualche secondo in più rispetto prima 4 3 2 1 tirata e ce ne facciamo un po' di più raga 6 ok ok 8 7 6 lo sai 5 4 3 2 1 rimani qualche secondo in più ma quanto mi odiate ma quanto mi odiate da un accento quando dico qualche secondo in più 4 3 3 3 2 2 1 1 1 torna data basa ci sei? ok devi saltare là immagina di correre immagina di fare questo chi lo può fare chi lo può fare e lo facesse io c'ho un metro e gli ho fatto ma dove vado? ok 4 minuti torniamo a lavorare no? ok magari cambiamo no? la regia rire quindi non oso immaginare Francesca che sono i jumping jack che sono? no so ci sei? raga terra i piegamenti ripeti ancora i mani 3 2 1 lo dobbiamo rifare uguale jack jack e piegamenti ok? ah stop a terra inizio 16 via quanti adesso? non lo so scendi rimani sali come stai? come stai? come va? skip non lo so ma io ce lo so chi sta ridendo ce lo so schifo a terra no stendi come stai? mi sto a quel paese aiuto divano aiuto ci sei? si ok terzo giro oddio quando finisce andiamo eh tutto da capo tu dici ma che sei matta? tutto da capo ok raga io alzo un pochettino tanto ormai lo sai no? lo sai ok inizi otto ti salutano rimani giù ok vieni qua tirata e sorridi no rimani rimani oh oh quattro tre due uno torna posala non ti serve più prendi il pesetto con la bottiglietta ok una gamba dietro una in avanti scendi deltoide via 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 ehi guardami avvia una quattro tre due cambio e ci sei ci sei ci sei ci sei avvia 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 si si quattro tre swing questo ci sei come se la buttassi dietro di te ok solo il gesto solo il gesto non hai bisogno di peso guarda ok a metà quattro tre due uno vieni vieni qua tre due uno recupera recupera ragazzi abbiamo finito eh ti vedi questo ne hai bisogno com'è andata non lo so commentate anche se mi mandate a quel paese va bene lo stesso eh quattro minuti come va ciao Giulia solo con questo ciao Anna Rosa ciao Eleonora ciao Gricky ci sei eh lo so lo so lo so ragazzi la mobilità articolare la cominciamo si ok non fermate le gambe non fermate le gambe segui solo le mie braccia eh ok ok le perdi ok sei qua centrale no si ok 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 ci sei oh vieni qui 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 guarda le mie gambe oh 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 è il busto ferma le gambe gestisci solo il movimento del busto tre due uno rimani scendi 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 sposta tutto l'atticione di là ok ragazzi abbiamo finito dai l'ultimo l'ultimo ancora non fermi le gambe le braccia magari ci ok ok oh 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 ci sei? proviamo? ok raga ferma le gambe e e vuota 4 3 2 3 minuto massimani scavo la tosseo ombelico regato regato dai 4 3 2 1 sciogli ste braccia sciogli ste braccia leve il peso oh sciogli 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 4 4 3 2 scendi ok ok eh mannaccia 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 l'escapola 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 8 8 8 9 11 12 12 ci vediamo martedì alle 20 instagram